Sembrerebbe che gli sconti tanto attesi dai commercianti non abbiano ottenuto in questi giorni i risultati che molti si aspettavano. Nonostante infatti i saldi abbiano preso il via ufficialmente lo scorso 3 gennaio, sono stati sinora in pochi nisseni che hanno deciso di fare shopping e chi lo ha fatto ha limitato gli acquisti ai capi essenziali. Confermato dunque l'antamento negativo dei saldi, secondo Confcommercio, infatti è in calo del 7,3% sul 2014 la propensione dei consumatori ad acquistare in saldo con una flessione che raggiunge quasi il 20% negli ultimi 5 anni. Ad influire su questa tendenza la crisi economica, anche se alcuni commercianti del centro storico tra le cause addebitano anche i lavori della grande piazza. C'è molta prudenza nell'acquistare, la gente ancora è un po' presa di paura, non ha voglia di comprare, quindi sono partiti un po' lentamente. Vediamo cosa succede più avanti. No, per niente, assolutamente. Non c'è un riscontro con i saldi o le vendite normali. Diciamo che ci aspettavamo di più, molto di più. E secondo lei quindi a cosa è dovuto? Ma la crisi generalizzata, permanente, che praticamente c'è a Caltanissetta. Insomma, noi non ci possiamo lamentare, perché i clienti sono venuti a indagare i prezzi prima degli sconti. Siccome noi ci comportiamo seriamente, tranquillamente, gli sconti li stiamo facendo del 30-40% e in effetti trovano convenienza e visto questo risparmio, qualcuno sta spendendo. Stiamo rivedendo quelli che avevano chiesto, quelli che intagavano e stanno acquistando quasi tutti. C'è chi trova la taglia, c'è chi non trova la taglia, però non ci lamentiamo per questo periodo. È ovvio, c'è stato il periodo di fermo, anche dovuto ai lavori di Corso Vittorio Emanuele. Corso Vittorio Emanuele per noi è stato un disagio enorme, più del 40% non si è visto di clienti, in particolare quelli di fuorisere, perché noi lavoriamo con tanta clientela di fuorisere e vedendo questo disagio di Corso Vittorio Emanuele non si è visto nessuno nel nostro negozio. in particolare in via Francesco Crispi è stato un disagio enorme, non solo il Corso Vittorio Emanuele, altri colleghi, loro, maggiore disagio, perché non potevano neanche passare le persone. Ma noi al 50% abbiamo avuto pure questo disagio. Perciò. Grazie.